Partito Comunista Italiano, che è il partito da Gramsci a Berlinguer, che noi ci riprendiamo con quella tradizione, con quei valori morali e culturali e per ridare, come è sempre stato nella tradizione del Partito Comunista Italiano, un punto, una sponda alla classe lavoratrice, ai soggetti più deboli e a chi ha bisogno di essere aiutato, sostenuto per i propri diritti per poter vivere una vita serena e collegiale e collettiva con gli altri, senza essere né marginati né tantomeno discriminati e discriminate soprattutto. Noi vogliamo che i servizi siano tutti pubblici, perché chi può e chi non può possa avere il diritto a curarsi, a muoversi, ad avere medicine senza pagare delle cose esose che sembra andare a comprare gioielli invece che le medicine delle cose e quindi ripubblicizzare tutto, l'acqua ovviamente, tutte queste cose, il diritto alla salute, il diritto alla salute per noi è anche che la gente possa tranquillamente, anche chi non ha soldi ma ha voglia di modificare il proprio corpo, che siano le labbra più carnose, che siano un corpo diverso da quello che hanno, lo possano fare tranquillamente senza dover ricorrere a prestiti, a cose, a strozzi, daggi e vari. I diritti devono essere per tutte e per tutti uguali, noi ci proponiamo di fare questo, di portare questo a Arezzo e sulla sicurezza, anche quello per noi è importante, la sicurezza comincia da fare luoghi pubblici, le piazze, quindi un'urbanistica completamente diversa dove ci si possa vivere liberi, illuminata, bella, visibile, notte e giorni, affinché noi donne, soprattutto noi donne e chi comunque ne ha bisogno, possa vivere libera senza avere l'incubo della violenza e la violenza non la portano le persone straniere. La violenza, per esempio, una delle prime forme di violenza è quella di una sicurezza che manca ad Arezzo ed è quella che a Arezzo si deve liberare subito dai poteri occulti che sono in Arezzo e che distruggono famiglie e persone. Questa è la prima forma di sicurezza che nessuno ne parla. Poi siamo anche contro il referendum per la diminuzione dei nuovi parlamentari perché è un ristringimento della democrazia e questo a noi non piace, siamo per tante cose, ma i diritti delle persone sono fondamentali per noi.